Dietro di lei è esplosa la festa dopo la fine dell'assemblea, un'ulteriore dimostrazione che questa Coseva è una grande famiglia. Sì, è veramente una grande famiglia e sono contento di essere qui per festeggiare questo periodo con la Coseva. Questo periodo che sono in realtà dieci anni, quanto è cambiato il suo lavoro in questi dieci anni? È cambiato in meglio perché col fatto che la Coseva ci tiene a noi soci ha dato anche più spazio per me, per la mia famiglia e anche per il lavoro. Che cos'è che ha da imparare ogni giorno dai suoi colleghi? Ha da imparare la praticità e anche la bravura nel fare il loro lavoro, visto che sono tutti i miei compagni di lavoro che sono più o meno della mia stessa età come lavoro, di dieci anni quasi. E a quelli giovani, a quelli che arrivano, a quelli che magari arrivano da altri paesi, che cos'è che potete insegnare voi? Che Coseva è una bella famiglia e che se ci si impegna si può realizzare i nostri obiettivi, i nostri sogni.